Amici e amiche di Spazioitech, un saluto da Marco, bentornati sul nostro canale YouTube per la seconda puntata delle news tech raccontate da Spazioitech. La prima puntata è stata una puntata un po' test, un po' pilota, nel quale abbiamo visto e vi ho introdotto a questa nostra rubrica e a questa nostra volontà. Provo a farlo un po' diverso rendendolo molto più snello e dandovi quelle che sono secondo me le 4-5 news della settimana passata che non dovete assolutamente perdervi e dovete andare a recuperare. Dopo la sigla ne parliamo subito insieme. Prima news della settimana riguarda Huawei, la potete andare a recuperare sul nostro blog Mate30 Pro che dà la semplice vendita negli store. Huawei Experience, per esempio ce n'è una a Milano, amplia la vendita di Mate30 Pro anche ad Amazon, anche ad alcune catene fisiche e soprattutto lo fa con una mega promo bomba. Si parla di auricolari in omaggio, wearable in omaggio, quindi andatevelo a recuperare sul nostro blog. Prima notizia della settimana dedicata a Huawei Mate30 Pro, andatela a recuperare. Per la seconda news in realtà nel fondo due insieme che mettono protagonista Amazon, il gigante dell'e-commerce. Abbiamo dovuto parlare due volte, dovuto si fa per dire, di Amazon nel corso della scorsa settimana per due importantissime notizie. L'inizio della possibilità sta iniziando a comparire per alcuni utenti e per alcuni prodotti. La possibilità di pagare a rate è una cosa in via di definizione, quindi i dettagli sono un po' ancora nebulosi. Adesso al momento del video però è sicuramente una notizia da monitorare, da tenere sott'occhio. Perché però doppiamente parlare di Amazon? Perché è ancora disponibile per qualche giorno la promozione che su alcuni prodotti, warehouse deals, quindi la parte degli usati, vi permetterà di risparmiare il 20%. Quindi andatevelo a recuperare anche questa parte di notizie legate ad Amazon sul nostro blog Spazio di Tec. Per la terza notizia ci agganciamo a una notizia di settimana scorsa che riguarda Poco, il brand che si stacca e si separa da Xiaomi. In questo caso abbiamo visto a inizio settimana alcuni rumors su F2 Lite, F2, F2 Pro che stanno diventando sempre più concreti. Quindi uno smartphone poco è previsto per questa settimana appunto, per questi giorni. Quindi rimanete sintonizzati, non perdetevi nessun dettaglio su questi nuovi smartphone Xiaomi, potremmo chiamarli, anche se in realtà dovremmo definirli propriamente solo più poco, che sono in arrivo. Quindi dettagli ulteriori sul blog Spazio di Tec. Concludiamo con un'ultima notizia, non si può ovviamente non fare perché è l'argomento del giorno delle giornate Tec attuali legata a Samsung. In questo caso vado a prenderla direttamente sul nostro profilo Instagram, andateci a seguire se ancora non lo fate, chioccio a Spazio di Tec. Perché è arrivata addirittura un'immagine che riguarda S20 Plus, S20 Ultra che verranno addirittura dati in omaggio con le cuffie Galaxy Buds Plus in caso di preordine. I preordini dovrebbero essere quindi fase di giorni, aggiorneremo la notizia, per un design che è oramai confermato per quello che riguarda S20, S20 Plus, S20 Ultra, con questo modulo fotografico che non farà assolutamente contenti tutti di voi, ma si preparano ad essere i migliori camera phone disponibili sul mercato. Quindi non perdetevi anche questa notizia e non perdetevi tutti i post del nostro social Spazio di Tec. Questi amici erano solo alcune delle notizie ovviamente che ogni giorno si sosseguono, cambiano, si modificano, che fanno da sfondo la nostra vita tecnologica. Vi invito a non perdervi nessun appuntamento con tutte le nostre attività su Telegram, su Instagram, su Facebook, sul blog, su YouTube, qui, perché cercheremo di accompagnarvi in questo viaggio insieme. Vi do appuntamento la settimana prossima per la terza puntata, fatemi sapere qua sotto se vi è piaciuta più la prima puntata, la seconda per sapere come impostare le prossime. E da Marco un grandissimo saluto a tutti voi, un bel mi piace e un commento di incoraggiamento sono sempre ben accetto. Iscrivetevi al nostro canale e appuntamento ai prossimi video insieme. Ciao!